Buona nottata da Gabriele Manzo. Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. RTL cento due cinque commemora tutte le persone che hanno perso la vita, che sono più di centotremila. Sostiene la vaccinazione di massa, la lotta quotidiana dei sanitari che combattono contro la pandemia. E a proposito della pandemia, oggi è l'attesa pronuncia da parte dell'Agenzia del Farmaco Europeo per la ripresa anche della campagna vaccinale. Alberto Ciapparone. In Parlamento il responsabile della Salute Speranza ribadisce che la campagna vaccinale sarà maggiormente sviluppata e che verranno reclutati infermieri e farmacie. L'augurio poi è che fra poche ore l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ridia al via libera al vaccino AstraZeneca. Così il ministro. Quanto avvenuto nelle ultime ore nei principali paesi europei non incrine in nessun modo la nostra fiducia nell'arma più importante di cui disponiamo per contrastare il Covid. Il premier Draghi fra poche ore sarà a Bergamo e ha disposto le bandiere a mezz'asta per la giornata nazionale delle vittime del Covid. Intanto venerdì CDM sul decreto sostegni con i sindacati che chiedono un immediato confronto sul merito e il ministro Garavaglia che evoca la possibilità di estendere il 110% anche alle strutture turistiche. Lo sport Bayern-Lazio 2-1, i bianco celesti eliminati dalla Champions dopo il 4-1 dell'andata. Vigiani. Non ci resta che l'Europa League fuori dalla Champions, Juventus, Atalanta e Lazio è proprio la seconda manifestazione europea in cui l'Italia spera di andare avanti con Milan e Roma impegnate contro Manchester United e Shakster Donetsk. La Lazio è stata l'ultima delle nostre squadre ad uscire dalla Champions negli ottavi. 4-1 all'andata per i tedeschi che hanno vissato la vittoria all'Allianz Arena con il risultato di 2-1 per effetto delle reti di Lewandonski su rigore, Ciopo Moting e Parolo. L'allenatore dei Capitolini, Simone Inzaghi, aveva chiesto alla vigilia una partita a testa alta e così è stato. In Serie A recupero della ventiquattresima, Torino batte Sassuolo 3-2 in rimonta dal 2-0. Oggi per l'Europa League alle 18.55 Shakir Donetsk Roma con lo stadio chiuso per l'aumento dei casi di Covid in Ucraina. alle 21.00 Milan-Manchester United. La viabilità.